Vostra maestà? Mostrategli che cosa sapete fare con le pozioni magiche. Padre, si è ridato la vita. Era quasi morto. Serena, per favore, lascia che parli lui. Ha rubato il corpo di mio padre. Il mago ha fatto un incantesimo e ha cercato di avvelenarmi. Mente, non dategli retta, è stato lui! Io ho visto tutto! Costui, portatelo nei sotterranei. Finché non avrò deciso come dovrà morire. No! Guardate, ho una pagina del suo libro. Credo di sapere dove trovare la pozione per annullare l'incantesimo. Non appena l'avrò, tornerò qui. Vi voglio bene. Quel vascello è a noleggio? Ha il quartiere a Simbad. Dovresti chiederlo a lui. Dove posso trovarlo? Tu sei Simbad, vero? Cosa te lo fa pensare? Sei l'unico lì dentro che non ha detto di esserlo. Avrei bisogno del tuo aiuto? L'hai appena avuto, no? Mio padre è in prigione. Trovagli un difensore. L'hanno condannato a morte, capisci? Te ne serve uno bravo, allora. Non mi credi. Che a te serve aiuto? Senza offesa, ma chiunque creda di essere una principessa ha bisogno di molto aiuto. Devo andare oltre il velo delle nebbie. Qui dice esattamente così. Il velo delle nebbie. Guarda. È il simbolo. Guarda. 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 Grazie a tutti.